Cosa ci puoi dire del tuo ruolo del film Non Turi, come l'hai insegnato a te? Allora, è stato uno dei ruoli più grandi che ho avuto da quando interpreto i personaggi come attore Quindi sono diverse scene, sono co-protagonista e mi è piaciuto molto, è stato imperativo Nel confronto all'altro ruolo che abbiamo visto con gli occhi di un bambino, quindi è stato più importante, più impegnativo questo film Sì, sia perché è stato un ruolo più lungo, quindi diverse scene e poi non l'ho vissuta di più Anche se il tema dell'altro film era comunque molto profondo e triste e drammatico Grazie Daniele Grazie